Ciao a tutti! Oggi prepareremo il semifreddo agli amaretti. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 8 ore di riposo in congelatore. Ingredienti sono tuorli, vanillina, amaretti sbriciolati, zucchero, panna fresca per dolci, zucchero a velo, rum e amaretto di saronno. Andiamo via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e i tuorli. Ed azioniamo il bimbi per 5 minuti a velocità 5. Trasferire in una ciotola capiente, lavare ed asciugare bene il boccale. Dopo aver lavato e asciugato bene il boccale posizioniamo la farfalla mettere lo zucchero a velo, la vanillina e la panna che deve essere ben fredda. Noi l'abbiamo messa 45 minuti in congelatore e la facciamo montare senza misurino e senza tempo a velocità 3,5. La panna è ben montata, versiamola nella ciotola con le uova ed amalgamare delicatamente con movimenti dall'alto verso il passo. Aggiungere gli amaretti sbriciolati, l'amaretto di saronno e il rum ed amalgamare delicatamente. Trasferiamolo in uno stampo da bruncake da 28 x 10 cm rifoderato con pellicola trasparente. Ricoprire con pellicola trasparente e riporre in congelatore per almeno 8 ore. Trascorso il tempo il semifreddo è pronto, rimuovere dallo stampo, eliminare la pellicola trasparente e decorare con amaretti i ciuffetti di panna montata. Semifreddo agli amaretti! Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!